Musica Venerdì 29 dicembre si è tenuta nel municipio del comune di Osimo la tradizionale conferenza stampa di fine anno dell'amministrazione comunale. Avviandosi alla conclusione del suo secondo mandato il sindaco Simone Pugnaloni insieme alla giunta al completo ha voluto sottolineare i tanti interventi e i numerosi progetti realizzati durante l'intero decennio concentrando l'attenzione su quanto arrivato a conclusione nell'ultimo anno lasciando poi la parola ai propri assessori che hanno illustrato nel dettaglio la destinazione delle varie voci di spesa a bilancio in base alle proprie deleghe. I cittadini osimani hanno potuto assistere in diretta streaming alla conferenza stampa collegandosi con la pagina Facebook del comune per assistere all'esposizione di quanto realizzato e del lavoro svolto dagli uffici in maniera puntuale e dettagliata. Si avviano alla conclusione i dieci anni il secondo mandato da sindaco che Osimo lascia nel 2024. Intanto grazie Osimo, grazie a tutti gli osimani che mi hanno permesso di amministrare questa meravigliosa città per ben due mandati. Siamo in direttore d'arrivo, mancano sei mesi alle elezioni, oggi conferenza stampa per presentare quanto fatto in questo secondo mandato dall'amministrazione Pugnaloni. Che cosa voglio dire per primo? Due cose. Osimo ha 263 chilometri di strade e asfaltare un chilometro di strada costa 150 mila euro. Qualcuno dice che ci sono su Facebook buche un po' dappertutto, non è così. Asfaltare tutta Osimo non è facile, ci vogliono dieci bilanci. E invece noi abbiamo cercato, e qui è un documento che presenterò questa mattina alla stampa, c'è l'elenco di tutte le strade asfaltate. E l'importo delle strade asfaltate ad oggi è 2 milioni di euro e con l'anno 2024 partirà l'appalto per un altro milione di euro. Credo che di strade ne abbiamo asfaltate tante. Soprattutto siamo andati ad asfaltare le strade di campagna, che quelle che per qualcuno sembrano essere secondarie e quindi da lasciar perdere. Invece noi lo abbiamo asfaltare perché abbiamo fatto dalla partecipazione democratica il nostro faro. Abbiamo ascoltato i cittadini e poi deciso che cosa fare. Questa è la prima cosa che volevo dire. Il secondo messaggio di augurio di Buonanno lo mando a tutti gli esercenti commerciali del Carcopiere. Lo sanno benissimo che non è colpa mia, perché sono stato lì, presente, in prima persona, eppure mi hanno fatto uno striscione. Non importa, accetto lo striscione, ma so che metterò in sicurezza uno degli angoli più pericolosi nella nostra città, dove negli ultimi mesi ci sono stati diversi morti, va un po' più alla lunga perché ci sono stati dei rapporti difficili con l'azienda che vi sta lavorando. Trovato l'accordo, l'azienda è ripartita. E allora mi dispiace, giustamente, che nel periodo natalizio forse siano stati meno incassi, ma con l'anno 21 avremo messo in sicurezza un angolo veramente pericoloso della nostra città. E chi ci aveva pensato prima dell'amministrazione Pugnone? Nessuno. Assieme a quella rotatoria abbiamo fatto anche la grande rotatoria nel primo mandato di Osimo Stazione. Da 40 anni la frazione della spettacola è la rotatoria, eppure noi abbiamo trasformato le parole in fatti. Sono due gesti per dirvi che questa amministrazione è andata a pulire i fossi, ha fatto le potature richieste dai cittadini e degli alberi pericolosi, ha sistemato le catidoie per un buon scorrimento delle acque, ma ha saputo anche programmare la nuova scuola di Campo Cavallo, il Palascherma, ha saputo spendere 300 mila euro nella piscina, ha saputo appaltare il campo di calciotto per la passata in pese, ha saputo dare una nuova palazzina allo Junior Tennis per mettergli un domani di organizzare i tornei challenge, e questo è lo sport, è la mia delega. E poi, che dire dei servizi sociali? Abbiamo abbattuto le tasse nei servizi a domande individuali, ogni famiglia per far mangiare il proprio figlio alla scuola pagava un diritto fisso di 20 euro al mese, anche se il figlio non andava a scuola. Noi l'abbiamo abolita, zero, quindi quella tassa fissa per la famiglia non c'è più, paga solo se il bambino mangia a scuola. Lo scuola, quando siamo arrivati, costava 175 euro andate a ritorno, oggi costa per le fasce più basse zero, per le fasce di Isee e Medie 25 euro andate a ritorno, per le fasce più alte 50 euro andate a ritorno. È raddoppiata l'utenza e i genitori sono felici. Ieri abbiamo approvato il bilancio di previsione 2024, abbiamo approvato una soglia di esenzione IRPEF, della dizionale IRPEF comunale, a 15.000 euro. Siamo l'unico comune nelle Marche che porta la soglia di esenzione IRPEF a 15.000 euro. E allora che rispondere a chi mi critica per i soldi spesi per il Natale? Non siamo un divertificio. Noi vogliamo bene al centro storico e quindi abbiamo speso tanti soldi d'estate, tanti soldi a Natale per far rivivere il centro storico, le attività del centro storico e l'abbiamo riempito di migliaia di persone. Ci sono le foto che documentano. E se mi dite che ho speso troppo, fate i vostri conti. Se avessi speso 200.000 euro per il Natale e altri 200.000 euro per il cartellone estivo, mettendoli insieme rappresentano poco più dell'1% del bilancio comunale che è pari a 30 milioni di euro. Credo che abbiamo fatto tanto. Abbiamo anche, mi piace questo dato per dire la vocazione della città all'ambiente, abbiamo speso un milione e mezzo di euro per i fotovoltaici in tutte le scuole, al maxi parcheggio per alimentare l'andata e il ritorno e il tiramisù che è gratuito e importanti impianti sportivi, piscina, spogliatori del campo Santilli. E quindi che dire? E poi, gesto importante verso le future generazioni, abbiamo risistemato tutti i campetti di quartiere dove i giovani, che magari non sono iscritti all'associazione sportiva perché non se lo possono permettere, possono andare a giocare a calcio, a pallaganestro, a pallavolo, in campetti che l'amministrazione gratuitamente gli mette a disposizione. Io credo che abbiamo fatto tanto questo mandare. Sono tanti gesti che raccontano una storia lunga 10 anni. E poi la sicurezza. 145 telecamere su Osimo solo quest'anno. Più tutte quelle del passato, abbiamo investito circa 500 mila euro. E siamo coloro che mettono a disposizione un hardware per tutta la provincia di Ancona, in collegamento con le altre quattro province delle Marche, per il sistema di telecamere interconese a tutte le forze armate. E quindi io credo che più di così non si poteva fare. Ce l'abbiamo messa tutta, dalle piccole manutenzioni, alle grandi opere, ai servizi sociali, alla cultura, allo sport e soprattutto all'ambiente. Il turismo con noi ha triplicato la presenza di Osimo. Da 8 mila presenze quando ci siamo insediati nel 2014, oggi nel 2024 tocchiamo 22 mila, 23 mila presenze turistiche annue. Ecco, investire in un Osimo sostenibile con le piste ciclabiche, quindi il paesaggio, la natura, valorizzare i principali luoghi culturali in centro storico, fare di Osimo una città senza periferia, andare all'area archeologica di Monte Torta e poter ritornare in centro e visitare i luoghi speciali di Osimo, significa avere coinvolto tutta la città, perché il motto era Osimo una città senza periferia, e avere, ad esempio, anche a Natale, organizzato dei concerti non solo in centro, ma anche nelle principali chiese delle frazioni, che sono punto di riferimento per gli abitanti di quei luoghi. Ecco, un insieme di investimenti che mi permettono di dire che lasciamo un Osimo migliore di prima e io l'augurio è che il futuro sindaco che verrà, nella speranza che sia, della mia coalizione, possa continuare questo rapporto importante con i cittadini che ci indicano le priorità, ma soprattutto con gli enti sovracomunali. Nel bilancio comunale ci sono più di 6 milioni di euro ottenuti con il PNRR, 3 milioni di euro dal Ministero di Infrastrutture e Trasporti e altrettanti milioni di euro dalla Regione Marche. Credo che sia il dialogo istituzionale importante per avere risorse in più rispetto a quelle comunali e sia importante ascoltare i cittadini per una buona partecipazione democratica per indicare la scala delle priorità. Noi abbiamo agito così e spero nel futuro di continuare a vincere con la mia maggioranza per continuare a ascoltare i cittadini e per continuare questa bella storia. Noi abbiamo agito così e spero nel futuro di più rispetto a tutti i cittadini e per continuare a ascoltare i cittadini. Grazie. 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 Grazie.